Ricordiamo i prodotti più importanti dell'agricoltura qui a Roma, quali sono? Beh, indubbiamente abbiamo un bacino importante per quanto riguarda il pecorino romano, per quanto riguarda l'abbacchio doc, per quanto riguarda le ricotte, quindi tutti i prodotti lattiero caseari. Abbiamo anche un'importante area legata a quelle che sono le produzioni ortofrutticole, quindi eccellenze veramente di questo territorio. Poi se ci allarghiamo nella provincia, i castelli romani con il vino, piuttosto che altre eccellenze che vanno a coprire un po' tutti quelli che sono i fabbisogni della famiglia italiana.